La cardiologia dell'ospedale San Giuliano ha superato l'impiantamento di 500 device tra pacemaker e defibrillatori, un traguardo importantissimo celebrato stamattina insieme al direttore generale dell'ASL Napoli 2. Io non ho che da lodare tutta l'equip della cardiologia con il dottor Napolitano in testa per quello che stanno dando a questo ospedale, a questa popolazione in termini di abnegazione e di professionalità. Uno tra i reparti sicuramente della regione campania con i più alti numeri sia per quanto riguarda gli impianti di pacemaker, sia per quanto riguarda come SPOC l'infarto per la rete dell'infarto, insomma un reparto da continuare a investire e da continuare chiaramente a sostenere. Numeri impensabili fino a qualche anno fa resi possibile grazie al laboratorio di elettrostimolazione ed al lavoro di squadra dei sanitari del nosocomio giuglianese. Questo è riferito all'attività del nostro laboratorio di elettrostimolazione che ha iniziato la sua attività a fine dicembre del 2016 e a inizio gennaio 2020 ha realizzato un traguardo strepitoso almeno per quello che sono le possibilità del nostro ospedale di aver impiantato 500 device tra pacemaker e defibrillatori. Vedete che a Giuliano non si riusciva neanche a mettere un pacemaker temporale negli anni scorsi quindi per noi avere questa possibilità, aver avuto questa possibilità grazie alla collaborazione di persone esperte quindi in grado di navigare anche in acque piuttosto difficili e far sorgere un'attività di questa importanza è una grandissima soddisfazione. L'esperito devo dire è della grande esperienza che abbiamo affidato il nostro laboratorio di elettrostimolazione al dottore Mattia Liccardo. La prospettiva del nuovo ospedale di Giuliano che sarà un ospedale maggiormente dimensionato per le necessità di questo territorio dove anche le attività della cardiologia e dell'elettrostimolazione e dell'elettrofisiologia avranno un importante ulteriore traguardo da raggiungere e lì ci auguriamo, mi consentirei al dottore Napolitano che in quell'occasione potremmo forse anche ambire ad avere un'attività di amodinamica che possa dare le risposte necessarie a questo territorio.